Una volta, tre monache sono venute a fare un pellegrinaggio in Coppa L'Aternatà. Venevano da lontano, chissà da dove. Quando sono arrivati, tutto stanco e pieno di porve, con tutto che gli faceva male le rannocce, per quante parate avevano dato. La prima cosa che hanno fatto è stata quella di essere ad un occhio davanti al loro sfisso. Hanno cominciato a dire ragione e a sbattere su un tetto. Da pelle in pelle, uno dell'uomo ha detto Gesù Cristo mio, tu hai tanto fatto tutto per noi, stai ancora a fare la roccia e noi non facciamo niente per te. Non ci mettermo per tutto il bene che ci vuole. Che cosa fai per te, povera peccatrice? Ti potessi almeno allumire l'ueno che vuole da questa manna santa? La seconda, la seconda Monica, sentendo questo discorso, ha pensato. Dì che bella idea che ha donato la sorella nostra. E chi ci avessi mai pensato? Poi ha detto, Gesù Cristo mio è bella e bella, volevo volessi fare qualche cosa per te. Dove se vuoi? Dove se vuoi la giova che ti tormenta satanana santa? E tu vuoi essere la giova che ti hanno spaccato a sapere santa? Ha detto subito la terza Monica. Per paura che prima lo dicesse in auto e non c'era mai più niente da lui. Gesù Cristo, che aveva stato assentato, allora ha detto in capo a sé, come vorrei che ti va a finire, perché siete sceme, ma stanno cari lungo e lungo per te.